Approvata la seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025, tra gli atti approvati a maggioranza dal Consiglio, lo spostamento di un milione di euro dai beni culturali allo sport. Marco Meacci, nuovo Presidente del Corecom, presentata a Palazzo del Pegaso la nuova composizione del Comitato Regionale di Controllo. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, gli interventi normativi collegati e l'integrazione alla nota di aggiornamento al documento economico finanziario 2023. Tra gli atti approvati, un emendamento presentato dal Presidente Gianni che sposta un milione di euro circa dal capitolo beni culturali agli interventi per lo sport e un emendamento della Consigliera Elisa Tozzi sulla realizzazione del secondo ponte sull'Arno nel comune di Figline, incisa. Ascoltiamo le interviste a partire proprio dal Presidente della Regione, Eugenio Gianni. Ma una variazione di bilancio che si inserisce in un contesto di programmazione strategica della Regione per dare risposte soprattutto a due temi. Il tema delle bonifiche sia per quanto riguarda l'anticipazione dei risorse che la Regione deve mettere per provvedere, altrimenti le bonifiche vanno troppo a rilento se solo con risorse di chi è stato responsabile di quegli atti a partire dal Chevo. E conseguentemente la Regione emette 10 milioni circa per poter procedere a bonificare, salvo poi rivalersi su chi è responsabile, e poi sull'area di massa perché a Carrara, a massa, vi sono le necessità di bonifiche che possono consentire nuovi interventi industriali. Canto alle bonifiche che coprono la gran parte delle risorse di questa variazione vi è la cultura, 10 milioni, che costituisce il modo per dare alla cultura diffusa quella che poi viene sostenuta nei nostri comuni le necessarie risorse e soprattutto questo in una fase in cui durante l'estate noi dobbiamo unire l'attrazione turistica della Toscana alle iniziative culturali che ne possano valere come fattore di richiamo proprio perché la nostra, la Regione forse è più ricercata per le regioni italiane dai turisti che vengono dall'estero. E una serie di interventi puntuali, interventi che o si risolvono con una legge o con una previsione specifica da parte della Regione, penso al teatro a Pistoia, penso a interventi sulle scuole, a Piazza al Serchio, a interventi sempre di predisposizione di tutto ciò che è stato provocato dal maltempo, la scuola e la palestra, in questo caso a Mosulmano, che o si risolvono con un intervento ad hoc nella variazione di bilancio o non si affrontano. Ma in tutto questo c'è una visione di una Toscana che sta dando in questo momento, l'ha rivelato bene l'IRPET, un senso di prospettiva di sviluppo superiore a quello che avviene in Italia e che attraverso il supporto della Regione trova sicuramente una speranza per il futuro. Sì, sicuramente vi inizierei la parte delle partecipate, c'è un DEF che non tocca il tema di Toscana Strade, un tema molto dibattuto negli ultimi mesi, che invece si trova all'interno di un piano regionale di sviluppo che andremo poi a discutere nella prossima seduta di Consiglio regionale. Non è ancora chiaro la finalità e la fine che farà fedi Toscana, perché la Regione Toscana intende acquisire il 100% delle quote di Sici, però ci risulta che ci sia un'altra Regione che partecipe delle quote, che è la Regione Umbria, che non sia in questo momento intenzionata a vendere. Non ci sono chiarezze per quanto riguarda tutto quello che è il pacchetto delle partecipate, della progettazione e del futuro di una serie di attività che avranno appunto ripercussioni importanti su tutta la cittadinanza toscana. Però voglio anche evidenziare da ex Presidente della Commissione di inchiesta sulla criminalità organizzata, appunto il CHEU, che finalmente è arrivato una variazione di bilancio da 15 milioni, che andrà appunto perlomeno a tutelare la salute ambientale e la salute e l'ambiente di alcuni territori, che sono quelli della 429, e dei due siti di proprietà della ditta Le Rose. Quindi almeno su quello sembrerebbe iniziare un percorso di piano di caratterizzazione e di opere di bonifica che noi chiedevamo da circa un anno e mezzo. Ci siamo arrivati sicuramente con un ritardo, però comunque ci siamo arrivati con questa variazione di bilancio e è comunque una soddisfazione, dopo averlo chiesto e richiesto da ormai tantissimo tempo. Purtroppo così non è per tutte quelle aree convolte nell'inchiesta CHEU, invece che riguardano i comuni su cui ancora si sosseguono ricorsi al TAR, non possiamo compensare che comuni anche molto piccoli che sono stati coinvolti in questa inchiesta abbiano delle risorse così importanti per poter bonificare quelle aree. Quindi speriamo che anche in un secondo passaggio la Regione possa intervenire su questo. E una seconda battaglia che abbiamo portato avanti anche a livello parlamentare è quella delle bonifiche del SIN-SIR di massa, su cui anche qualcuno ha scritto che la Lega non era favorevole. Ecco, ci tengo a chiarire che non è assolutamente così. Siamo fieri di aver votato questo articolato per quanto riguarda il SIN-SIR di massa, perché lo abbiamo chiesto a tutti i livelli e quindi anche lì parteranno opere di bonifica di cui non possiamo che essere contenti. Sì, in questa variazione di bilancio e complessivamente nel bilancio 2023 ci sono alcune operazioni che riguardano le società partecipate, che costano tanto ai toscani per gestioni evidentemente non soddisfacenti. Per Firenze e Fiera, per esempio, sono accantonati quasi 6 milioni e mezzo per la ricapitalizzazione della società. In realtà in questi giorni abbiamo letto e noi stessi abbiamo denunciato che oltre alla Corte dei Conti probabilmente può essere in arrivo anche un'indagine della magistratura ordinaria per una situazione che gli stessi soci, alcuni soci della società hanno definito tecnicamente fallita con un passivo di oltre 28 milioni di euro. Quindi abbiamo raccomandato con l'ordine del giorno, che speriamo la maggioranza voglia votare, che la Regione metta questa ulteriore fish solo dopo aver verificato bene la situazione economico-patrimoniale della società. Per quanto riguarda Sici Toscana, che è una società finanziaria che dovrebbe entrare nell'orbita di sviluppo toscana, anche in questo caso si lega all'operazione Fidi, cioè alla finanziaria della Regione che dovrebbe essere dismessa a favore di sviluppo toscana. In realtà i tempi di questa operazione non sono rispettati e ci risultano problemi sulla quantificazione economica che la Regione dovrebbe incassare dalla vendita delle azioni. Infine l'ultima, Toscana Strade. Prima ancora che parta ci costa già 5 milioni, è bene che i cittadini toscani lo sappiano, 2 milioni di presunto capitale sociale e 3 milioni per le prime spese. In realtà l'operazione è stata fatta a rimandare la delibera alla Corte dei Conti, al Garante per la Concorrenza e il Mercato. Secondo noi non va bene, perché in realtà è competente il Consiglio regionale, ma prima ancora che il Consiglio ne abbia discusso, appunto, si spendono già 5 milioni. Ma Italia Viva sostiene questa manovra di bilancio perché rientra nelle linee guida che ci siamo dati rispetto al bilancio 2023. Non ci sono aumenti di tasse, ci sono maggiori risorse invece, soprattutto per gli impianti sportivi, per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato. Quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole e un equilibrio finanziario che si consolida in un anno che non era scontato. Le difficoltà a inizio anno erano notevoli, tutti si ricorderanno la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione. Il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale. Su questo abbiamo approvato e sostenuto anche il DEFRE e questo è un atto importante che precederà nelle prossime settimane anche la discussione in merito al piano regionale di sviluppo. Una variazione di bilancio di 40 milioni di euro, considerando che il bilancio complessivo della Regione sui 13 miliardi naturalmente non poteva essere qualcosa di rilevante. In questo caso, come in altri, si tratta di una semplice spartizione di risorse, in alcuni casi anche non particolarmente eclatanti per i vari comuni e soprattutto in iniziative che tra di loro non sono collegate e danno chiaramente l'idea di come la Regione Toscana, più volte l'abbiamo denunciato, non abbia una visione per il futuro che non vada al di là delle tornate elettorali, anche dei comuni su cui dare contributi, non abbia appunto visione, non abbia una programmazione, non abbia monitoraggio di quello che è l'impiego delle risorse. Il problema più grande che stanno affrontando le famiglie adesso è il caro mutui, il caro affitti, tutte le questioni che riguardano l'energia, l'aumento dei prezzi e l'inflazione. La Regione Toscana, sia per le famiglie che per le imprese, non sta prevedendo niente, soltanto una riorganizzazione delle partecipate, perché il riordino non se ne può parlare, che prevederà dei piedaggi in futuro sulla FIPILI, che prevederà che FIDI Toscana venga smantellata e adesso nessuno possa dare il sostegno alle imprese e al microcredito che dava precedentemente, e altre iniziative che però non sono neanche salvifiche per quegli enti, penso alle terme di Montecatini, che invece le attendono da tempo. Quindi fondamentalmente è una tempesta in un bicchier d'acqua, con veramente degli interventi piccoli legati a quella situazione locale o all'altra, legati diciamo a interventi ad personam o ad comunem fondamentalmente. Voltiamo pagina il Corecom della Toscana a il suo nuovo presidente, l'ex sindaco di Monte San Savino, Marco Meacci, che succede ad Enzo Brogi. Meacci è stato presentato a Palazzo del Pegaso, con lui anche i nuovi componenti del Comitato Regionale di Controllo, Carlotta Agostini, Benedetta Baldi, Bianca Maria Giocoli e Biagio De Presbiteris. Sentiamo le interviste. Il Corecom si è insediato oggi con il nuovo Comitato, il nuovo Consiglio, abbiamo già alcune idee, alcuni impegni importanti da portare avanti, credo che sia un organismo molto importante per la comunicazione, per l'istituzione in Toscana. Veniamo da un lavoro precedente molto importante e molto positivo, guidato da Enzo Brogi. Noi cercheremo di portare avanti sia le cose fatte fino ad ora che guardando al futuro. In particolar modo vogliamo portare più a conoscenza il Corecom in Toscana, vogliamo portare il Corecom in giro per la Toscana, una sorta di tour del Corecom in giro per le città della Toscana, in modo da farlo conoscere e far conoscere anche i servizi, gli strumenti che possono essere a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. Penso per esempio a tutto il tema delle controverse telefoniche. Poi organizzeremo un'audizione generale di tutti gli operatori del mondo dell'informazione in modo da conoscere quelle che sono le esigenze in Toscana e in modo anche da trasferirle al Consiglio regionale. E poi successivamente abbiamo anche l'idea di organizzare gli stati generali della comunicazione dove faremo un punto complessivo di tutte quelle che sono le esigenze e le problematiche in modo da rendere sempre più il Corecom uno strumento di relazione e di comunicazione complessiva con tutti gli operatori. Intanto un grande in bocca al lupo a tutti coloro i quali si sono resi disponibili a svolgere un incarico importante per le cittadine e i cittadini della Toscana. Il Corecom è un punto di contatto importante nella fase di conciliazione ma anche la capacità di saper sfidare il futuro. La comunicazione cambia, cambia velocemente, tocca la vita di ciascuno di noi. Il compito del Corecom è anche quella di saperla guidare. Consentitemi un grande ringraziamento a chi in questi anni ha guidato il Corecom, a Enzo Brogi per il lavoro, per l'impegno, per la dedizione e anche per come insieme a tutto il Comitato è riuscito a far crescere in questi anni come autorevolezza il Corecom. Sono sicuro che questo lavoro verrà portato avanti con altrettanto impegno, con altrettanti risultati da chi oggi inizia questa importante attività per le cittadine e i cittadini della Toscana. Il Corecom è un'istituzione fondamentale nell'ordinamento legislativo e attuativo dei principi staturari della regione toscana. Il Corecom ha una funzione importantissima da un punto di vista della garanzia, della garanzia della correttezza nell'informazione e di propulsione attiva nell'informazione. Il lavoro che aspetta l'organismo che sarà guidato dal Presidente Meacci è quello di rimettere mano anche al sistema normativo con cui disciplina la propria attività il Corecom. Pensate che ad esempio nelle leggi che il Corecom oggi si trova ad avere come disciplina e attuazione del proprio operato manca ogni riferimento alla dimensione dei social e oggi noi sappiamo che l'informazione passa moltissimo attraverso i social e attraverso la rete internet con tutte le sue declinazioni e ciò che questo rappresenta. Quindi vi sarà un lavoro che è importante verso il Consiglio regionale di promozione e proposizione di quello che saranno le regole su cui il Corecom può svolgere la propria attività. E poi oggi che la comunicazione è tutto non dimentichiamoci quanta attività il Corecom può svolgere proprio nel segno di una corretta informazione e di una possibilità di utilizzare quelle che sono le varie forme con cui la comunicazione mostra il volto bello delle istituzioni a partire appunto dal Consiglio e dalla Giunta regionale. Insomma un organismo a supporto sia dell'Assemblea legislativa sia dell'attività di Giunta che diventa fondamentale e che mi porta oggi a esprimere il buon lavoro a figure, i rappresentanti nel Corecom che svolgono un'azione spesso magari non in prima pagina, non in proposizione di primo ruolo ma che nella sostanza è una delle funzioni fondamentali dell'attività della Regione. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.